Il Comune di Pescara ha offerto alla Regione la sua disponibilità per la gestione delle piscine Lenaidi in attesa del project financing e della definizione della proroga della gestione con l'attuale società. Il Sindaco Carlo Macci ai nostri microfoni rilancia quella che al momento è più di un'idea. Lenaidi sono un patrimonio identitario della nostra città e della nostra Regione e non rappresentano soltanto un impianto natatorio, uno dei più belli d'Italia. Quindi noi non possiamo permetterci di perdere Lenaidi neanche per un giorno, non soltanto per i lavoratori che ovviamente svolgono l'attività ma anche per tutti i fruitori dell'impianto migliore d'Italia dal punto di vista natatorio. È quasi la coverciano del nuoto Lenaidi, è sempre stata definita così. Quindi la Regione deve prendere un impegno serio, concreto per il rilancio dell'attività. Sento parlare di un project financing, per me va benissimo perché le attività pubblico-privato possono funzionare se fatte bene, ma non credo che un project financing si possa realizzare in tre mesi. Quindi la proroga di tre mesi rischia di creare delle situazioni di poca concretezza. Con la Regione vorrò parlare per sapere effettivamente quanto tempo occorre per fare un project financing. In questo tempo l'impianto deve rimanere aperto perché ci serve la continuità dell'attività. E poi ho anche detto se la Regione ha interesse a guardare al territorio, il Comune di Pescara è pronto a prendere in carico Lenaidi. Anche come trasferimento definitivo perché noi siamo l'ente che è più vicino alle necessità dei cittadini e quindi sappiamo perfettamente qual è la necessità oggi dei pescaresi rispetto alle attività natatorie. Quindi siamo pronti a confrontarci con la Regione a 360 gradi perché l'impianto deve continuare a funzionare. E poi anche per il futuro il Comune è pronto a fare la sua parte.